Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Fortnite Siamo oggi qui per andare ad affrontare un'altra Risa Squadra tutti assieme Quindi buttiamoci subito nella partita perché appunto Dobbiamo vincerla, eh Assolutamente, dobbiamo vincerla, vincerla e vincerla Non so se ce la faremo ma noi ci proviamo comunque, no? Vediamo un po' se nel passo battaglia possiamo come qualcosa, sì Scusate L'ho mangiato da poco quindi ho un attimo Poi adesso devo mettermi a registrare tanti video Di nuovo per almeno un paio di settimane di seguito Visto che poi con questo video lo vedrete martedì 2 Se non ho sbaglio, sì, con questo video lo vedrete martedì 2 Ma poi non ho molto tempo in questa settimana In realtà questa settimana sì ho tempo La successiva no perché appunto sono in cita con la scuola Quindi per tutta la settimana non potrei registrare Quindi devo cercare di portarmi avanti sia per questa che per la prossima settimana E sto registrando già tutto sabato precedente Almeno una parte Anche per distrarmi perché ultimamente c'ho un attimino la testa sempre piena di pensieri Ed è abbastanza stressante Ammetto che ultimamente sono molto 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 stressato C'ho la testa che continua a esplodermi Ma non è una cosa che voi interessa Quindi io non ve la dico perché sono cavoli miei E non vi interessa tanto Quindi io devo cercare di essere comunque sempre positivo E allegro per i video Quindi facciamoli Sperando che magari anche appunto registrare un pochino mi aiuta Vedendo che poi comunque qualcuno che te li vede Un po' mi aiuta dai registrare Mi fa sentire comunque infelice Perché comunque gioco un pochino mi diverto E poi i miei video eventualmente possono essere visti da qualcuno E possono intrattenere anche qualcuno Dubito però può sempre accadere Quindi andiamo a registrare bene questo video Allora Quest'area della squadra Puntiamo sulle 8 kill almeno eh Cerchiamo di farle bene almeno 8 kill Perché Di meno non sono accettato eh Poi probabilmente sta a vedere che come ho detto ne faremo due Se va bene Allora Sei partito Ok oddio Un po' buggato Ok Bene Perfect Perfect Andiamo Scusate se tiro un po' su di naso Ma c'ho Un po' di naso tapato Quindi andiamo qua E mi soffierò il naso in video Si sto registrando e mi soffio il naso Una cosa che non si dovrebbe mai fare Io la faccio Perché intanto Il bello della diretta no? Benissimo Wee Allora Allora Bene Buttiamoci Subito Questa skin mi piace molto Guardate come è bella tutta luminescente I colori sgargenti A me piacciono molto Questo tipo di skin Voi ormai lo dovreste sapere Bene Abbiamo scelto un posto dove c'è subito la safe Che praticamente si è divorata tutto Ottimo Quindi avremmo ben poco tempo per prendere le armi L'importante è trovare subito quelle che ci servono Qui ad esempio appunto il pompa Ottimo Un po' di munizioni subito Una mitraglietta Si La cassa Si Questo fucile Allora Facciamo così Ok Saliamo su Munizioni Più veloce Non ti Non ti incartare Che cavolo Oh questa Va vedere Una di quelle col mirino così Ok Potrei tenerla qua come arma Aggiuntiva Bene Facciamo così Andiamo di sotto Qua abbiamo già guardato Non c'è nulla di che Prendiamo la Munizione Le munizioni Qua Rompiamo questo Fantastico Mura Per ottenere Niente di che E Saltiamo E andiamo In Safe Safe Che non raggiungeremo mai Perché muoveremo prima Ma almeno ci avremmo provato Dai Corri Eh Dai È morto Ovviamente Siamo morti Una cassa Ok Una bella Ma mi escono i capelli dal Mi è fatta un po' malina A sta cosa Sorry bro Andiamo con la nostra macchinona In città Mega city Guardate come voliamo bene Ma un cazzo Ma che merda No macchina Ferma qui Aspetta dove scappi C'è la macchina Pure la tosse Oggi registriamo proprio bene No 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 Eh che palle Oh Ahia Uii Guarda che bello Fare le acrobazie Con la macchina Stiamo perdendo un sacco di tempo A fare le acrobazie Con la macchina Posto che andare Ad ammazzare Gli altri giocatori Eh Però A noi piace così O sbaglio No Io sono incantato Questo Un altro così No Andiamo Pensavo Di romperlo Andiamo qua Se la safe è qua Andiamo Un safe Dove sono i nemici Dai Voglio un pochino Lottare Dove sono i nemici Dove sono i nemici Oh E Ponga Andiamo un po' a combattere Su Voglio un po' di azione Sì Lei Mi piglia pugni Ok Dai Qualcuno da sparare Siamo già dieci minuti di video E non ci sta neanche una kill per ora Che schifo Ho dato un po' di scarsezza Ma che cavolo è sto roba Sto pazzo che vola Ok Ce l'abbiamo fatta salire E' la mia mira di merda Eia Oh Un bel cecchino Più o meno Non c'è chi No cazzo Allora Ok Così Ma fa Non sono molto concentrato Di questo mi scuso Quindi Bro Vedi di morire Oh Oh Uh Ah però No Ma che fru' Ma la panculo Ok Ok Un bel vado Un bel vado Un bel vado Angulo Sincerissimo Perché che cazzo Mi hanno pregato Oh Che palle Questo è mio Ok Ok Su bro Accelera 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 Dai Su che siete macchine Veloci Vami un bel 70 Allora Vai vai Anche 80 Se riesci Ma credo che abbia Come limite 72 Uai bro Ma che cazzo dici Cioè ragazzi Stiamo ancora A tipo Una kill Cioè Proprio vero Che non sto concentrato In questo momento Per registrare Ok Perché la mia mente Come al solito È ad altro Quindi Mi scuso Non ci posso fare niente Sto proprio messo male Ultimamente ragazzi Cioè nel senso Non va di che Alla fine Sono la maggior parte Delle cose Cavolate Della mia testa Le cose Che penso Non mi preoccupare Non so Non so Ma basta Porca Ma che palle Ma che palle Uffa E' riuscissi a prendere Una cazzo di volta Guarda 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 Vai a morire Un po' Grazia Vabbè almeno Non l'abbiamo ucciso Dai Meno male, guarda Comunque ero partito di nuovo sempre con l'intenzione di registrare un sacco di video L'intenzione che mi è già passata Registrerò se va bene questo e un altro giusto per le medie Così abbiamo i miei martedì già preparati Ma che cazzo di mira di merda c'ho oggi Non è proprio giornata, è oggi Io cerco pur sempre di restare positivo e allegro nonostante tutto Ma dai Vabbè dai abbiamo perso tra pochi secondi Basta non essere l'ultimo che ammazzano Ok Torniamo in lobby ragazzi Per questo video veramente orribile è tutto Io vi auguro una buona giornata Speriamo che domani possa essere una buona giornata anche per me E appena arriviamo in lobby Io vi dico ciao ragazzi Io vi auguro una buona giornata